Disagio con i collegiali Milano Perché c'è un evento di House of Talent Dove presenteranno la House of Talent Crew E dovrò fare shopping a la DC Al con Roberto, Bruno e la Michelle E Marta e Ambra Ragazzi È prestissimo Sono tipo le 5 Infatti sto ancora a dormire Io mi sto vestito, ho tutto posto Non vedo l'ora di partire Ragazzi vorrei farvi vedere in questo vlog Quanto è Cioè è presto Sono tipo le 6 adesso Vi piace il mio pellicciotto di Bullrich Io sì Sto bloccando col cellulare Perché altrimenti con la fotocamera non ce la facevo Andarmi qui in treno Quasi senti questa Lei che comincia a cantare In punto in bianco Cioè mi sveglio, guardate, ho gli occhi che lacrimano E lei canta, guardatela Tutto bene perché ci stanno mettendo a cantare Ragazzi siamo arrivati a Rom A Milano A Roma stavanti Beh, veramente Sono vloggato A Regancio Si non so Però vi darò Vi darò troppe parti che non ho messo nelle storie Anche perché non ce la faccio più Ho fatto 22 minuti di ritardo Ragazzi Ciao È ritornata È calato Tutte arrivate È ritornata a rompi Do sta Michelle? È ritornata a rompi palle Che mi dice di vloggato Vi ricordatelo? Siamo quasi tutti Sì, ciao Ragazzi mi sta ricopiando ragazzi Seguitemi Non seguite lei Fa schifre Ragazzi guardate con chi si date Guarda Ci sono tutti Guarda, guarda Guardate Guardate Allora ragazzi Milanesi Questa è la Che figa Andiamo allora Se me Che schifo Maio Maio Lì Qua Gang Guarda Guarda C'è pure lei C'è pure lei Ma che Buone il tavolo Mi vanno Dove sta lo studio? Avete fatto le foto? No Adesso siamo entrati qua Doviamo fare le foto Oh c'è sta Pietro Ciao Ho ripreso Però vabbè Ma qui scivolo Se c'ho le gambe Eh Qui si scivola Ma è grande No Che piccolo Come ti apri sta cosa? Apri Apri C'è qualcuno? Sì Buongiorno Non c'è nessuno? Ma Stanno arrivando Dove sono gli altri? Non c'è nessuno? Dove le hai lasciate? Qua? Sì Non c'è nessuno? Stai là Ando Ma fai fermato Si sa Guarda questa Guarda questa Guarda questa Guarda che brutte Guarda che brutte Ok Ma ragazzi guarda ci siamo uniti I due che si vestono bene ragazzi Ma la stiamo camminando ragazzi Ma la stiamo camminando ragazzi Ma la stiamo così Guardate Cazzo è vero Un viaggio Oh Dipinto di blu Felice di stare lassù E volò Giù con i collegiali Guardate Disagio con i collegiali L'intro ragazzi Ecco Nel video del video Disagio con i collegiali No raga io vado di qua Guarda Guarda tutti di qua Oh Che ci sa Cibo Oh raga ma perché Ma che ci sono Dove cazzo Ma dov'hai Ragazzi ho appena finito Le mie foto Adesso ci sta Roberto Perché ragazzi Queste ragazze qua Queste qua Guarda Brunella E le altre Guardatele Queste che sono innocenti E loro Ah Michelle Mi hanno mandato a me per primo Per fare foto Cioè ma Ti senti normale Poi guardate C'è Roberto Ragazzi adesso me sto Riposando Guardate chi c'è con me Guardatelo Ciao Grazie Adesso si è Adriano Adesso si è Adriano Adesso guardate Questo si che stile No non ce l'ha Non ce l'ha Non ce l'ha Non ce l'ha Anche ce l'ha Anche ce l'ha Adesso stiamo andando Diisle Diisle di Out of Talent Bellissimo ragazzi Bellissimo Adesso siamo qua Mi ho appena fatto Provato le magliette della Diisle Abbiamo fatto anche musicali Musicali Oh musicali La luce C'è fatto Musica Zitto zitto Eccoli Dai Ricoglio 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 Vai facci vedere un po' Come fai Vai vai Miracolo ragazzi Guardate che figo Ma io mi metto qua davanti Cioè scusami Che figo Ragazzi siamo intanto qua Alla nostra Diisle Ci stiamo preparando Questa è Beyond the Sims Ci stiamo tutti cambiando Con la maglietta della Diisle Ed è fighissima Se vedete che i vlog miei sono uguali Non l'abbiamo fatta posta E vi sto vedendo Guardate quanti siamo Ci sono tutti Roberto E stanno tutti là ragazzi Ragazzi quanto siete belli Ragazzi questo è il backstage Dopo l'evento di Diisle Adesso lo faccio Michelle proprio Io so per dire Michelle è Sanca Guardatela Adesso ci spostiamo Andiamo tutti a pezzo di mercanti due Uno due tre Uno due tre Vai 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 Uno due Booo Allora stiamo tornando a casa da Milano Adesso c'è pure il Duomo Adesso c'è pure il Duomo E adesso stiamo tornando ragazzi Perché è stato freddo e abbiamo finito l'evento Adesso stiamo passando per il Duomo Ed è stato bellissimo ragazzi per quelli che sono venuti Come primo evento Grazie veramente siete speciali Per me è sempre stato ripetitivo ma comunque per voi è stata la prima volta Adesso emozioni Ragazzi guardate cioè la gente al posto di accoglierci bene dobbiamo ritornare Diamo stanchi e le scale sono rotte Poi devo portare tutta questa valigia per le scale Non è possibile Non è possibile Siamo in Italia Vero Siamo in una certa età che devono anche capisci Eh tipo Veronica Ragazzi ci siamo fermati qui a Milano Centrale Guardate chi c'è raggiunto Naga Naga sembri baciata dal sole Cosa strana No perché No perché Adesso ragazzi è arrivata pure Michelle con i Pandori Guardate No non si può No sto filmando il suo sedere No C'è arrivata guardatela È arrivata pure lei Volete mangiare il Pandoro? Guardatela Dov'è? Volete mangiare il Pandoro? Adesso siamo qua con Veronica Nagga Marta E Michelle Adesso forse Facciamo qualcosa Ma perché queste luci sembrano discoteca? Ma questa Ma ditti questa Questo vlog No regali Questo vlog lo faccio uscire dopo domani Eh? No domani non ce la faccio Ma lo volete mangiare o no? Dopodomani Allora Questo è un appello per Gabriel Già ce ne sono pochi di Panda I pochi che ci sono Sono pure brutti No no dai Gabriel sei bellissimo Comunque in verità Gabriel non è giallo Si dipinge tutte le mattine Salutate Grazie Marta Questa è ingegnata a fare No Non è tanto Senti là Prima sulla classifica di Musical.ly Mi ha fermato la cosa guardate 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 Guardate Ciao Cori Ciao Cori Oh Dio Vlog su vlog Vlog su vlog Ciao Cori